Ogni giorno bisogna mangiare molta frutta e verdura. Simo ha una bella bistecca e l'è più buona e pesa meno. Tu aspetta qui che io salgo e scendo in un attimo. Sì, in un attimo, tutto il peso. Io quasi quasi mi prendo un caffè. Un caffè per favore. Anche due? Già qui. E come tu hai fatto? Con Montascale Sanna. Beviamo il caffè e andiamo. Peppino, quel buon vento. Ciao Roberta. C'è bisogno di Sanna. Si dice che Sanna può restituirmi la libertà di movimento. Certo, potrei fare le scale tutte le volte che vuoi e poi lo usi anche per portare sulla spesa. Ma io sto in un condominio. E allora, i Montascale Sanna sono adatti anche alle lunghe scale condominali. E con il telecomando puoi richiamarlo ad ogni piano. Ma quanto mi costerà? Tranquillo, ci sono le detrazioni fiscali del 50% valide per te e i vicini. E lo pagate a rate, un po' alla volta. E va bene, lo voglio. Allora chiama Sanna al numero verde 800 91 12 11 e fissa un appuntamento. È gratuito. È gratuito. Grazie a tutti.